Questo piano ci porta a una sfida ulteriore, avere un'accademy di formazione che diventa il collettore dei saperi del passato per il futuro. Con il nuovo piano di creazione sostenibile facciamo uno step ulteriore nella leva della formazione e introduciamo l'accademy. L'accademy sarà un po' il centro dei nostri saperi, quindi dalla storia al futuro. Pensate che due delle tre leve del nostro nuovo modello di leadership sono l'eccellenza operativa, che nell'accademy vedrà tutta la parte di formazione tecnica, che abbiamo il dovere di portare avanti e lasciare come patrimonio di know-how delle nostre persone, e tutto il tema dell'innovazione, che ci sta permettendo di fare un salto verso il futuro e che quindi abbina non solo la formazione delle nostre persone verso il futuro e verso la digitalizzazione, ma anche contribuisce al know-how dell'intero Paese Italia.